come vengono in giro per l'ocupicare come c'è? è una ora che mi chiamiamo a Briciore a me mi ha detto sono appunto il plasma che ci succede l'azienda di roba non ci spiegaste che sempre dovremmo fare cosa fa che non si fa che non si fa perché non si fa 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 di farmi scegliere come un sabato che ha visto noi si chiamava Briciolo Briciolo cavo fino a Tappeggio dice Tappeggio vuole restare dentro di me a posti se a noccio se non puoi magari dire guad perchè io c'è più più solito